Siamo arrivati a questo venerdì per portarvi nuove informazioni sulla Juve. Cliccate su mi piace e baby scrivete VIG per far parte della nostra famiglia bianconera. Momento decisivo per il centrocampista americano Weston MC Kenney alla Juventus. MC Kenney, dopo il suo ritorno dal prestito, ha mostrato buone prestazioni in alcune partite di questa stagione, il che ha spinto la dirigenza della Juve a voler rinnovare il suo contratto. Per evitare che MC Kenney lasci il club a costo zero, la Juventus sta negoziando con i rappresentanti dell'americano. Tuttavia, se MC Kenney e la Juventus non raggiungeranno un accordo, al club non resterà altra scelta che venderlo ora in estate. In caso contrario, l'anno prossimo MC Kenney partirebbe a costo zero, quindi, amici miei, ora è un momento cruciale. Weston MC Kenney ha giocato 31 partite e fornito 10 assist in questa stagione. L'americano è alla Juve dal 2020.